nell'esercizio precedente abbiamo visto come mettere in tavola quindi come creare delle viste sul disegno creare e definire la scala e poi queste viste possono essere stampate ora vediamo come creare invece una messa in tavola quindi una serie di viste un po' più complete compresa il cartiglio e anche della squadratura quindi inserisci layout, layout dal modello il layout dal modello è un comando che mi permette di inserire all'interno del mio disegno quindi nello spazio carta una serie di messe in tavola predefinite prendiamo ad esempio un ISO A4 notiamo che c'è anche un ISO A4 orizzontale che in realtà non era nel sistema è stato personalizzato ed è un ISO A4 orizzontale prendiamone uno verticale scegliamo la definizione e vediamo che è stata aggiunta una scheda nello spazio carta con riportato la scritta che abbiamo confermato ha riportato quindi un disegno nello spazio carta comprensivo di squadratura cartiglio e vista sul disegno andiamo a vedere intanto prima cosa il cartiglio il cartiglio è un blocco con gli attributi se clicchiamo due volte possiamo personalizzare quindi aggiungere delle scritte sul cartiglio aggiungere le varie elementi che mancano la data la scala e così via adesso vediamo la vista sul disegno siamo nello spazio carta attiviamo lo spazio modello e facciamo un pan come si può vedere stiamo facendo uno spostamento di una vista sul disegno quindi dallo spazio carta abbiamo una finestra mobile sul modello la quale finestra mobile appunto adesso deve essere definita all'interno ai fini di una scala abbiamo visto che il primo modo il modo più semplice e diretto è quello di usare uno zoom sapendo che il disegno è stato disegnato con unità di disegno al millimetro e essendo il millimetro anche l'unità di disegno dello spazio carta probabilmente facendo una scala 1 a 1 quindi 1 x p p sta per papers carta il mio disegno rientra in questa squadratura in scala 1 a 1 infatti in scala 1 a 1 questa è la visualizzazione del disegno abbiamo visto anche che nello spazio carta nella finestra proprietà selezionando la finestra e qua ci sono alcuni elementi su questa finestra e finestra intesa come visualizzazione mi viene data la scala standard cioè la scala di visualizzazione che posso anche cambiare tant'è vero che posso settare una scala 1 a 2 che è questa è in sostanza un modo facilitato e notare che per avere questo valore il valore di scala 1 a 2 nello spazio modello quindi con vista sul modello come zoom avrei dovuto dare punto 5 xp per avere questa vista cioè la scala 1 a 2 abbiamo anche verificato come la scala 1 a 1 rientrasse perfettamente nella nostra impaginazione tolgo la finestra di visualizzazione quindi la finestra di proprietà e questo è il mio layout quindi la mia messa in tavola del mio modello del mio disegno in scala 1 a 1 poi andrò a personalizzare le scritte però questo sarà quello che comparirà a stampa